Senatrice Marilena Damo, perché è importante scendere in piazza il 25 ottobre? Tra le tante buone ragioni ce n'è una che mi sta particolarmente a cuore, che è ben sintetizzata nello slogan Scuola meno tagli e più qualità. Siamo di fronte a una manovra molto pesante di ridimensionamento della scuola, di tagli al tempo e al personale, al di fuori di qualsiasi progetto di riforma di qualità. E questo è il punto. Quindi diciamo no a una manovra che colpisce la scuola elementare, l'unico segmento della scuola italiana che è stato confermato anche dai dati OX e produce ottimi risultati in termini di apprendimento dei ragazzi, sì invece delle riforme che toccino la scuola superiore in termini appunto di apprendimenti, ma di queste riforme non c'è traccia. Quindi sia per la nostra protesta che per le nostre proposte vi chiediamo di scendere in piazza a difesa della scuola pubblica.